Siamo nella fase finale di Ravenna 2018, siamo pronti per diffondere tutte le iniziative e gli atti di quello che è stato prodotto in questi tre giorni, che sarà liberamente scaricabile dal seguito della manifestazione. Siamo già pronti anche per l'accoglia della prossima annata, infatti è già ipotizzata la manifestazione nelle date 8, 9 e 10 maggio 2019. Quindi anche qui ripartiremo da zero, cercheremo una collaborazione per i nostri partner, cercheremo un buon team per le iniziative che coinvolgano tutti gli stakeholder dell'economia circolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.